Prima uscita ufficiale questo pomeriggio per lo scale A di Gigi Carnevale. Nella seconda giornata della prima fase di Coppa Italia di Lettanti, la formazione biancostellata affronterà di fronte al proprio pubblico il Real San Marco. Calcio ad inizio alle 17 con la squadra del patron Formica che viene dal buon pareggio in trasferta contro il Roggiano domenica scorsa. Si tratta di partite ufficiali che hanno però ancora il sapore del calcio d'agosto. Gare importanti più che per il risultato per testare la preparazione fisica e tattica in vista del campionato che partirà domenica 8 settembre. Ad ogni modo si va in campo per vincere perché la convinzione nei propri mezzi passa anche da questi successi agostani. In un panorama calcistico che negli ultimi anni ha visto sparire gran parte delle squadre tirreniche, lo scale A tiene duro e prova a rilanciarsi con un progetto giovane che è già un anno di rodaggio. La scelta di un tecnico come Carnevale, giovane ma con un buon bagaglio di esperienza, ha confermato la volontà di provare a ritagliarsi un ruolo da protagonista per tentare la risalita nel massimo campionato regionale. Questo pomeriggio a Longobucco arriva il San Marco sconfitto 3 a 0 all'esordio dal Castrovilla, ritesta di serie del girone 1. Rossoneri ai quali proprio lo scale A vincendo oggi potrebbe contendere il passaggio del turno nell'ultima giornata in programma sempre a Longobucco domenica prossima.